Le palazzine Liberty lungo la parte finale di Via L'Elena, la facciata concava del Palazzo dell'Incis, l'intersezione con Via Petrella e l'imponente ingresso di Villa De Capoa. E' la visuale che incornicia Piazza Savoia, sbocco delle tre direttrici Via L'Elena, Corso Vittorio e Via Roma, della cosiddetta Campobasso Murattiana. Un disegno oggi macchiato dall'ex Hotel Roxy, che il concorso internazionale di idee, bandito dalla regione per la propria nuova sede, si proponeva di ricomporre. Affidarsi a mani esperte per ricucire, è la dicitura esatta del bando, le cubature di Piazza Savoia. In soldoni, togliere la bruttura del Roxy e progettare qualcosa di molto più simile al preesistente, senza stravolgerlo. Per questo, con 50 punti, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio più alto proprio ad un aspetto estetico elevato. Non si conoscono ancora gli altri progetti che hanno partecipato, tuttavia è sufficiente digitare su internet i nomi degli studi che hanno concorso e, rimanendo ai primi dieci classificati, a qualche loro intervento. La BDR Architetti Associati, quinti in graduatoria, hanno realizzato ad esempio il progetto della nuova stazione Tiburtina Roma per l'alta velocità, il nuovo teatro dell'Opera di Firenze. La Ottaviani Associati di Roma, decima nella classifica della Commissione della Regione Molise, ha sul proprio sito, tra un progetto in Cina e l'altro a Riyadh, dove ha realizzato la metropolitana, diversi ospedali, a Trieste e a Pisa, con il progetto avveniristico della Villa Matris. Le tavole prodotte con il progetto della nuova sede della Regione Molise, dall'ottantina di partecipanti al concorso, avrebbero dovuto essere esposte nei locali della ex Gil, ma fino ad oggi nessuno ha visto quei lavori, tranne i componenti della Commissione che li hanno giudicati. Nemmeno sul sito dell'architetto Nicola Guglielmi, che si è messo alle spalle il fiorfiore degli studi di architettura italiani con la sua idea, figura l'immagine del cubo bianco intersecato da un altro parallelepipedo di vetro con il quale ha stregato i commissari e ha vinto il concorso. Sul sito web compaiono la scuola di Busso, la piazza di Sepino e tante altre opere pubbliche o private per lo più realizzate in Molise. A proposito di Molise, nella relazione del vincitore c'è forse la carta vincente. Le linee rigide circolari della composizione volumetrica, si legge, si ammorbidiscono nell'area del Vecchio Romagnoli quasi come un tratturo. Si propone un'ampia zona verde su tre livelli destinata ad orto, un forte richiamo alla tradizione agropastorale. Al primo livello sulla piazza saranno realizzati filari di tintiglia, al secondo alberi di olivo e al terzo di frutta. Convinti dal richiamo agreste, i commissari hanno ceduto e così, con il Consiglio regionale a pochi passi, sarà più facile per i cittadini commentare che dietro quelle finestre lavorano braccia sottratte all'agricoltura.